Mi ricordo gli affibbiarono un po' questo Mr.33 proprio da quegli anni lì in cui comunque aveva la dedizione nei particolari e quindi anche nelle palle ferme non solo quelle a favore, anche quelle contro, in varie situazioni di gioco era molto molto preciso. Poi nelle palle ferme ho avuto sempre un punto di forza perché curava molto questo aspetto, ora noi abbiamo vinto anche una Coppa Italia con una palla ferma tant'è che ho avuto fortuna di sfruttarla io in quell'occasione. Mi ricordo che a fine partita quando ho vinto l'andata 1-0 su un colpo di testa mio, su una posizione laterale, ne incontro, io convinto di avere quasi un complimento o qualcosa e mi disse facile con i schemini eh. Ti puoi immaginare quanto c'era attento e quanto era contento di vedere sul campo il risultato del lavoro.